Buonasera, Lucci ma che cosa hanno comprato questi ragazzi? Allora abbiamo comprato la mela per Jacopo, la mela per Francesco e questa qua è per pago Noi siamo i malamenti, e questa qua è per pago Noi stiamo andando in missione, bensì a buono pane Allora mi stava pulignando Questi due vecchi di 70 No ripeto Allora siamo in procinto di avvicinarci alla città fantastica Questi due vecchi di 70 No ripeto You want the top? Attack the stupid shot Andate a visitare il paese di Terzano Questi due vecchi di 70 No ripeto E questa qua è per pago Allora 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 Allora